Una lezione che fondamentalmente mostra quasi solo ombre e responsabilità di tutto il mondo politico, istituzionale, delle aziende e tutto. Beh, un'audizione sinceramente che mi lascia perplessa, a tratti contraddittoria. Abbiamo delle risposte date in precedenza e dall'azienda sanitaria, dove veramente l'interesse preminente era quella della tutela della salute dei cittadini di Servola. Ad oggi ci troviamo invece con delle analisi fatte da poco che risultano inattendibili per il numero di persone che si sono prestate ad offrire i loro campioni di sangue, che risulta un numero troppo esiguo, e per delle risposte che sembra non possano essere utilizzate. Quindi perplessità da parte di molti consiglieri, del comitato stesso di Servola e soprattutto dei cittadini, che ad oggi si ritrovano a non avere delle risposte chiare e certe, nonostante la loro volontà di procedere con le analisi, con le indagini e con la volontà veramente di ottenere delle risposte che ad oggi, ahimè, non hanno. I primi 100 giorni diventeranno i primi 1000? Beh, non so se diventeranno i primi 1000. Io spero di no. Ritengo comunque che la tutela della salute ha già atteso abbastanza. La situazione non è semplice. Di Ferriero ormai parliamo da 10 anni e più. Non siamo ancora giunti a una conclusione. Io credo sinceramente, il mio auspicio, che i tempi non saranno lunghissimi. Sicuramente l'attesa e l'aspettativa è tanta, non solo da parte dei cittadini di Servola, ma da quanto si percepisce ormai da parte di Servola.